musica 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 salve ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video di gta 5 bene 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 insieme a sb mission per franklin l'altra volta purtroppo c'è da modo di interrompere anche se io non ti stai a fare in questo n***a non ti chiede a chi 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 e Sì! Eccolo! Sì! Sembra impicciolita la zona. Vabbè, ma comunque è una mappa ricostruita, non è quella che abbiamo visto a San Andreas. Ed è quello che vedo che è anche passata in mano ai ballas. Brutta storia. Che manda chi? Noi, non è un po' di chiacchia. Carriere servici. Package per ricciare. Hai la grigge? Presidente accontato. Ha, ha, ha. Hai, hai, hai? Sample? Ha, ora stiamo parlando! Sì, staccato il telefono ok scusate l'interruzione mi sono dovuto arrabbiare a causa telefono alle 3 del pomeriggio non potete inserire a rompere le palle non dico solo sto con mia nonna quindi per ora nessuno verrà a rompermi le scale passiamo si 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 Sì io non ho una sparaggia di questa mi draietta Intanto, poi arrivano pure a quattro stelle. Ho sbagliato sostanzialmente. Ok, si sistemata. Aia, 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 tira di in piedi, alzati. Più quello rosso. Guarda a fare un giuletto. E' un giudetto. Si, non è un giudetto. E' un giudetto. E' in giudetto. Que cosa è buttata mossa? Si, non è un giudetto. E' un giudetto. E' un giudetto. Deve essere una brava di arroba. Me ha detto che, non è una brava di attrapeço. E' lo stesso, che manca, amore di arroba e tachate un giudetto. E questo è un giudetto. E' un giudetto. E' un giudetto. E' questo giudetto. Non lo so. E' un giudetto. Sì And keep our hands down We ain't gonna lose the cops on these things yeah, man see we need to get the lane Come on climb up here Damn man, are we gonna do this? I got an idea kid stay close Hey Jack, if you can keep up, stay with me Adesso si copri sotto Dai She didn't show me man How are we gonna duck 5-0? Dude, man, fuck We gotta get out of here We'll lose them, don't worry Man, 5-0 don't get the meaning of self-defense Officer, it all started when they didn't have the kilo of cocaine we preordered Man, I guess that ain't gonna flop Oh Franklin, he's fatta di roba o cosa? E' sceso così a cazzo You need to stop me E' proprio un fottuto negro Vai cazzo Nel frattempo è vinto pure la guardia nazionale Ok The trouble kids get into We ain't out of this shit jet I'm starting to get why Michael might have appealed as a mentor You need help Shit I'll take whatever I can get You think we got time to go back for that drywall? Man, I think we oughta lose the heat first Hehehe All right Cause that drywall looks, you know, high quality I mean, we can make a fun night out of that brick Man, fuck you Hey, let's see our experience expert in everything Ducks the cop All right All right All right Everybody ready? All right All right La smetti di scendere E' scendito E' scendito Sali Sali Vaffanculo Stanno che non è andata a puttana Dobbiamogli questa Vaffanculo Ma è andata senza di te Cristian Vaffanculo Forza puttana Io lo stupro FRAiendlin Oc Ehh Riproviamo Ok Dai Affordable Sì We rug our legs Look Dai, che cazzo, parecchio in testa di minchia Mi ha affondato I tempi della mafia proprio, sono tornati coi Thompson Sì 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 qui, dai! tu sei la mia! come faremo questo? ho un'idea, chiede, guardate! hey! è la tua idea, Bob? è la nostra trovare un veicolo? hey chiede, se puoi continuare, guardate con me! Perché era di merda credo che abbiamo il tempo per tornare a quella città? credo che dovremmo perdere la città prima ok, perché quella città città sembra, sai, di qualità credo che possiamo fare una buona notte da quella città man, f***a te ehi, vediamo come questa esperienza di esperienza in tutto in tutto, Dux the Cop ok? devo girare qua a sinistra dannato porto l'odio tanto so fuori dal raggio della pula il che è buono però non mi devo dritto sinistra, 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 sinistra ottimo, guarda che curvone basta la vista figli di p***a ovvio stai a quattrocento metri quindi vediamo ah, vai a riposarti Franklin su un piano di punti interrogativi quattro vediamo se Dio ce lo concede se riusciamo a farcene un'altra dopo a fine video dopo intanto passo un aereo sopra casa mia perfetto un aereo, si si come no un elicottero scusate dicevo devo prepararmi per fare il colpo di di trevor ma lui fa in bicicletta adesso vi faccio vedere io come no non devi sparare ah, aspettate andò a fare il culo ecco il caso di epico uff 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 guarda, voglio uscire in picchiata cominciando a ammazzare pronto? questo non è il nome del tuo file Michael Steve Haynes è qui sì, agento Uschbag hey, questo tipo di p***a che abbiamo raggiunto per te ancora respirando? vedi per te stesso, ora right now Trevor Phillips is on his way to help with the debrief warehouse off Dutch London in Banning great sounds just like my kind of party ah ok ok posso Trevor vi ricordo gentilmente che quello che vedrete potrebbe urtarvi la sensibilità perché credo di aver capito quale missione è ne sono quasi sicuro che è quella cioè è quella WTF tre volte sui jesus uff 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 Ok, si sta per fare molto serio, quindi se vi urta la sensibilità potete chiudere il video. Adesso. Questa è solo che si fa? Siamo arrivando a parlare. No, no, no! pastorsi riusci такое. No, no! Sapete dentro il barato, se lo place il rischio con il problema, lui approvali. C'è questo qui. Sono fatta di futuro, ci sono fatta della GLORY. All'unico... C'è questo tutto? Non c'è un buon tempo, ampio. Egli sai? Siamo in una buona. Voi? Voi? Voi fai e a... ...n'è non qui. Se siete ancora alla vista del video, avete un grande stomaco, preparatevi al peggio più tardi. Per sicuramente, ma non c'è nulla che possiamo fare. Se qualcosa succede a lui adesso, già mi sento. Se qualcosa succede a lui adesso, sarei proprio sotto un microscópio. Un microscópio di electronica di urocratico. E questo sarebbe molto difficile per mantenere le sequenze. Scusa intanto se respiro affannosamente ma non tutto il giorno per aiutare mia nonna a prendere i panni di fuori. Mi sono quasi beccatore a freddore. Non ero ben coperto e qui a Roma sta tirando un montaccio di merda proprio. Scusa intorno a terra, questa connexion, e poi cosa? E poi trever flippa fuori, paga la mia famiglia, o raga la mia famiglia, o raga la mia... Stop! O raga la mia famiglia, o raga la mia famiglia, non lo so che è peggio. In fin dei conti già pagano. Già pagano. Ne danno, ogni chio di benzina. Che soldi in più non frega un cazzo. E io tanto credo che Michael paghi le tasse. Quanto tempo? Che cosa importa? Oltre che tu stavico lavorasse con noi prese il carico di d' Franco... ... ti potevi delle tue in un ambush, uno di loro ha messo circa 10 anni sulla ruota... ... ed l'altro ha migliorato la mia abilità da guida. ... o abbiamo scusato nel carico di cash. Bang! E' un c**o! Dammacob, non potevi darli. Non mi chiamo Franklin! E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? Non mi fai convergendo. Si, la chiamare Steve. Le botte. Il ragazze è la nostra collagione. Ok, ok. Ok, sei che non lo silenziamo solo per di sicurei? Sentiamo che sientiamo a chiunque, siamo sientiamo a chiunque. Mi racconta qualcuno un'altra adresa! Ehi, vuoi un そりato? Il signore Capo, per questo bello! Abbiamo bisogno di una nuova addresa di Mr. K. Ah, tanta bella roba interessante! Iniziamo con questo! Non, 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 non Oh, oh ecco, che dolore E' Chumash sia. E' Chumash sia. Chumash. Stai guidando. Ricordi. Il terror non prende i coppia. Che d***o. Cazzo, la macchina è tornata pulita, bella e linda e pinta e che cazzo. Mancano i figli cinesi del deporte. Qualche danno giusto per riportarla, allora rigirano. Chumash sia fuori. Chumash sia fuori. Prendiamola. Staci da vivo, ma proprio. Cazzo, Davy. Tu lasci lui camminare. Tu hai detto... Tu hai detto che... E tu hai detto che sia un giudice. Non cazzo. Oh, Dio, ho sbagliato. Ti prego, andiamo a cambiare... Aiuto! Mi scusami. Andiamoci a trovare... Scusa un altro auto. Volevo fare una accrobazia prendendo in piano un palo. Penso che poteva andare bene anche una breve rincorsa. Invece... Unisco nella merda. Ma guarda che culo. Vengo io su. Che palle Perché Scendi Testa di cazzo Scendi Sei qua sotto Basta Non riesco a ucciderlo Uffa il culo Gli secoli per farlo scendere a un cazzo di scagliamento Prenderlo a pugni e Qualcosa di Ma fu culo Sta scagliando la parola dal nulla Dai cazzo Sto andando di fretta Primo tutti i tasti Caraca puttana Ti prendo a pugni Entra in questa cazzo di macchina Testa di Cazzo di merda FBA della minchia È l'ora di recuperare del tempo perso Guarda che figata Porca puttana Perfetto Cazzo di Cazzo di Cazzo di Cazzo di anche il mistero no 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 st l'argomento ok io e che mi chiuso e che mi chiamano ok ottimo del genere eccec da un ritardo I've been ready for the day I got kicked out. That's what we were afraid of. Yeah, 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 this guy we're after. What does he look like? I was built. I was like, middle age. Yeah, yeah, it sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sake. Look around. Is that enough for you? Do you see anyone down there who might be in Azerbaijani? What do I know? You might be in Azerbaijani, for all I know. What's one look like? They look eastern. I have this town looks eastern, Davey. You got to follow the Shah and the collapse of communism, thank you for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're going to need some more info on this guy. They're having a party now. They're not going to cut it, my friend. Sure, sure. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won. I remember. I remember. I remember. The buzzer went. Oh, go for it. I remember. I need them to sneak. Not again. Un altro dentino lo possiamo spezzare. Ah, questo è uscito più in fretta. No, 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 no. No. No, no, no. I'm telling you through. Mushi beard? Gli ho alcuni bierdy types? Because that's all Mr. K has given us. No! You know, I'm thinking, maybe we ought to just take two bullets and put them in our reformants and just call an air strike on Chumach beach. Get out the scope. Who am I looking for? Come get the boost. Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Man and we'll work our way down until someone fits the profile. Ah, c'è alcuni bambini a questa partita. Vinewood è pieno di weak chins. Il posto è famoso per l'anno. C***o. Le bambini sono in fashion in Chumash. Land of Beach, hipsters. Abbiamo bisogno di più. Va essere un lungo giorno fino a te darvi un'intelità sui nostri target. No, no, no. Ha bambini. Ha bambini. Ha bambini. Ha bambini. Ha bambini. Un'altra volta? No, no. C***o. Sotto direi che... mi colla un altro dente va bene. abbiamo bisogno di incoherentemente io credo che è getting a sniffing Mr. K Mr. K non sa nulla cosa, per favore ok ha cambiato e è l'altra handa cosa è? ha cambiato e è l'altra handa ah, ok i errati i errati che era un settant i errati e i errati che era un seguito e è un seguito che è un seguito che è un seguito ok allora che luce a destra? che è un seguito che ha un seguito ecco, usa la città e... è l'altra parte era il ragazzo ho avuto un sentimento lo vedrà beh... abbiamo... abbiamo... è finito questo è un rap, miei amici è un ottimo lavoro con voi ora ho avuto un rap di gioco quindi, trevor, se prendi a M.K. io credo che siamo all'implacati cosa vuoi fare con loro? io diria che ha avuto la sua utilità oh, come on, please shut up! ah, è un sport let's go, come on non puoi portarmi a me let's go, ok? non puoi lasciare quei G-Man f***** scumbag mi dicono cosa fare e, what? tu solo pensi a me non chiedi troppo domani let's go, get up come on, up the f***** stairs ok, lo portiamo via e finiamo il video e... eh, lo so è venuto un video un po' lungo ma qualche taglio che dovrebbe farlo durare una cinquantina di minuti forse una quarantina oh, ok si, mi sbigo si ok ok mi arrivo all'aria oh, la sicurezza prima anzi, sì, credo che rientriamo sulla fascia di mezz'ora quaranta minuti sto perdendo anche le condizioni estremi tipo and you're gonna spread your message I don't have a message you're a torture advocate advocate the media and the government would have us believe that torture is some necessary thing we need it to get information to assert ourselves did we get any information out of you I would have told you everything exactly tortures for the torturer or the guy giving the order to the torture you torture for the good times we should all admit that it's useless as a means of getting information I'm feeling lightheaded departures no one's right okay run you're free but my family your family is probably the ones who got you fucking in here alright look trust no one alright you're alone now really? yeah really now let's go fuck off come on come on I don't know if he will not go too far oh i'm losing my car leunge no no non mi to... la tortura con la tannica di benzina e credo che era eccessivamente troppo no no Nigga stole your car Doesn't give me too much Beh ragazzi quindi per questo video è tutto Io vi porterei a Michael Per continuare con le viene dopo Quindi per questo video è tutto Noi ci rivediamo lunedì con FIFA Gli episodi dovrebbero iniziare con la partita dello Zenit in Champions Cioè iniziamo prima con la Champions La stagione E in successione poi ci sarà la puntata di Raw Ci stiamo riavvicinando all'ennesimo pay per view Che salta over the limit Sicuramente sarà qualcosa di grandioso Quindi ragazzi per questo video è tutto Noi ci rivediamo nel prossimo video E ciao ciao Noi ci rivediamo nel prossimo video